Il Comune di San Giovanni Lupatotto L'organizzazione è affidata all'amministrazione comunale di San Giovanni Lupatotto, con l'assessore allo sport Enrico Mantovanelli a coordinare tutte le operazioni. La tappa regionale dei giochi Special Olympics sarà inaugurata con una cerimonia ufficiale di apertura, nella serata di sabato 13 aprile, con un corteo di atleti e associazioni sportive che alle 18.30 sfileranno per le vie del paese. La serata sarà organizzata in grande stile, riproducendo una classica cerimonia olimpica, con spettacoli, musica del partner Radio Pico e stand enogastronomici per una cena in piazza assieme a tutta la cittadinanza lupatotina e paesi limitrofi, che avranno la possibilità di trascorrere una serata olimpica. La giornata di sabato sarà dedicata alle prove preliminari di tutte le discipline sportive presenti, che serviranno per qualificarsi alle fasi finali in programma il giorno seguente. Domenica mattina gli atleti si confronteranno sulle discipline palla nuoto, basket, bocce, calcio e tennis, mentre nel pomeriggio sarà la volta di nuoto, atletica e ancora tennis. Gli atleti che otterranno i migliori risultati saranno quelli che poi andranno a rappresentare il Veneto e i giochi nazionali. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a questo importante evento di sport e integrazione.